Siamo con l'Avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto. Quest'oggi ci occupiamo di una iniziativa certamente lodevole in Commissione Pari Opportunità della provincia. Si è discusso ed è passata la linea di dare grande impulso al Signal of Help, un segnale particolare fatto con la mano che appunto significa richiesta di soccorso, di aiuto per donne evidentemente in difficoltà, oggetto di soprusi, di abusi, di violenza. Ma parliamo di tutto questo con la consigliera di parità. Intanto, Avvocato Lupo, la differenza a beneficio dei nostri amici da casa, proprio di ruolo, di funzione, certamente si implementano le due funzioni tra consigliera di parità e commissione Pari Opportunità della provincia. Una breve premessa, non stiamo usando la mascherina perché lo studio dell'Avvocato Lupo è blindato, essendoci ovviamente il plexigas e ogni misura appunto atta a contenere il virus. Quindi questo è il motivo per cui non stiamo usando le mascherine, giusto per precisare. Ti ringrazio per la domanda, prima di fare vedere ai nostri amici che ci seguono il Signal of Help. Ti ringrazio Luigi perché spesso c'è confusione nei ruoli e questo crea magari delle equivoci. Intanto il mio incarico deriva dal Ministero del Lavoro, è regolato da norme ben precise, è un decreto legislativo del 2006 ed è su base provinciale, regionale e nazionale. Cioè noi siamo figure, abbiamo fatto un concorso per titoli che è stato vagliato, il cui accesso è molto ristretto perché dobbiamo essere persone con una comprovata esperienza nel campo dei diritti delle donne, soprattutto i diritti del lavoro. Quindi la funzione della consigliera di parità provinciale è quella di essere d'aiuto nei confronti di tutti i problemi che una lavoratrice ma anche un lavoratore maschio può subire dal punto di vista di discriminazione di genere. È ovvio che poi il nostro incarico implicitamente, anche se le norme non lo dicono, sia allargato alla promozione di tutte quelle iniziative atte a diffondere una parità di genere. Il concetto, la cultura della parità di genere, cioè di evitare tutte le discriminazioni e poi ci stiamo anche occupando, perché non possiamo fare a meno, anche della violenza contro le donne. Diverse sono le commissioni che possono nascere su base comunale o provinciale, come nel mio caso, che sono su base elettiva, cioè fanno parte i consiglieri comunali che sono stati eletti e poi anche eventualmente delle associazioni che vengono invitate a partecipare in questa commissione. Ecco la commissione provinciale, che di fresca nascita se vogliamo, perché c'era un regolamento che non era stato attuato da tanto tempo, l'abbiamo anche al comune e ce l'hanno anche la maggior parte dei comuni della provincia di Tanto. La sede della consigliera provinciale è presso la provincia e quindi gioco forza, avendo un ufficio di segreteria in comune, abbiamo fatto nascere questa bellissima collaborazione tra le due entità che spesso si scambiano iniziative e anche progetti, questo per evitare un dispendio di energie ma anche per metterci insieme in rete. Crediamo molto, e soprattutto io credo molto, al lavoro di equip, al lavoro di team, pure con le differenziazioni dovute agli incarichi che sono diversi. D'altronde abbiamo visto il 7 marzo la bellissima iniziativa sulla rotonda del lungomare in cui abbiamo visto la proficua collaborazione tra il ruolo appunto del consigliere di parità e la commissione pari opportunità della provincia rappresentata dalla dottoressa Sabrina Pontrelli. Ma andiamo nello specifico, andiamo in Medias Res, ci simulerà, ci farà vedere questo segnale di aiuto, il signal of help, proprio simulando con la mano il gesto, perché è uno strumento davvero indispensabile, un secondo, un accenno può davvero salvare una vita. A questo proposito Luigi ti ringrazio di questa opportunità. Intanto chiariamo che questo segnale nasce dal Canada, dal 2020, perché proprio dalle organizzazioni a tutela delle donne canadesi è venuto fuori l'esigenza per la pandemia con le donne costrette a loro domicilio, magari in presenza di un familiare violento, avevano, e si era stato riscontrato anche in Italia e neanche in altri paesi europei, la difficoltà di chiedere aiuto. Tu sai, chiusi soprattutto nel primo lockdown, molto difficile dare la disponibilità, la possibilità ad una nonna vittima di violenza intrafamiliare di poter chiedere aiuto, tant'è che in Italia abbiamo anche lanciato quella famosa frase, che adesso è diventata nota a tutti, di ordinare una pezza, chiamando il 112 e il 113, abbiamo avuto dei casi di aiuto da parte delle forze dell'ordine. Ecco, dal Canada nasce questo segnale of help, che è molto semplice, che è stato poi ripreso immediatamente, non soltanto qui in Italia, ma da tantissimi paesi europei. È quasi diventato un segnale da diffondere. Rifondere a chi? Ma soprattutto ai cittadini comuni, a coloro che ci guardano in casa. Ovviamente occorrerà siglare dei protocolli con le forze dell'ordine e occorre anche dire, e non mi dimenticherò mai di dirlo, attenzione, questo è un piccolo aiuto, non è un aiuto decisivo e definitivo. Rivolgetevi sempre al 1522, che è il numero verde che mette in rete tutte le associazioni antiviolenza, ma anche i numeri delle forze dell'ordine, e quindi serve a capire, comprendere se una donna, magari da una finestra o da un'auto, vi fa questo segnale, riallertare le forze dell'ordine. Quindi se siamo pronti, io ti faccio vedere. È molto semplice, non è neanche confondibile con altri segnali, per esempio con la lingua dei segni, per cui è facilmente individuabile e dovrebbe essere conosciuto a tutti. Quindi io invito gli amici che ci guardano a casa a girare questo video e a diffonderlo. Quindi con il palmo della mano si chiude il pollice all'interno e si chiude poi il pugno. Lo ripetiamo insieme, amiche. Mano destro, mano di sinistra, è uguale, pollice, mano a pugno. Ecco, se vedete che una persona vi fa questo segnale, è sicuramente, ed è una donna, è sicuramente una persona che sta cercando, con il marito violento o il familiare violento alle spalle o in una situazione di pericolo, di segnalare, di segnalarvi la situazione di pericolo. Quindi eventualmente allertate le forze dell'ordine. Io vi ringrazio per questa collaborazione, ringrazio Luigi per avermi dato questa possibilità. Tutta la commissione pari opportunità, ieri ha girato un video che sarà presto messo a rete, ma lanciamo questo segnale a tutti gli amici e le amiche dei social che ci guardano. Grazie.